Signori, buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel solito, usuale, consueto disordine della mia libreria. Allora, visto che ho iniziato, praticamente per caso, se vogliamo, a parlare di mezzi corazzati tedeschi, e ho parlato dello stugo, ho riparlato nuovamente del tigre, ho parlato del Königstiger, eccetera, eccetera, penso sia giunto il momento, dopo due anni dall'apertura di questo canale, di parlare dell'ossatura, della struttura portante, del vero cavallo di battaglia, del vero nerbo delle forze corazzate tedesche, ovvero sia questo, eccolo qua, il Panzerkampfwagen IV, il vero protagonista della guerra corazzata tedesca, sicuramente un mezzo meno spettacolare rispetto al celebrato Panther, rispetto al leggendario tigre, rispetto al mastodontico Königstiger, un mezzo, se vogliamo, umile, un trattore, cioè, ripeto, un mezzo semplice, affidabile, il vero, la vera ossatura della Panzerwaffe tedesca, la vera ossatura delle forze corazzate della Wehrmacht, il Panzerkampfwagen Mark IV, eccolo qua, eccolo qui, la fonte, come sempre, sono le schede della seconda guerra mondiale di Arrigo Petacco, editore Curcio, ripeto, si tratta semplicemente delle schede tecniche del mezzo, perché bene o male è uno dei mezzi più famosi e celebrati per comodità, sfrutto le schede tecniche che sono pubblicate su quest'opera, estremamente comode, estremamente fruibili, molto sintetiche e complete, e molto utile per fare questi video, quindi, cari signori, prestate orecchiuccia alla breve storia del Panzer IV. Allora, questo mezzo corazzato è nato nella metà degli anni Trenta, quando la nuova Germania, edificata dal nazionalsocialismo, era nel pieno della sua folle corsa agli armamenti. Allora, i tecnici predisposti alla pianificazione delle forze corazzate, stavano considerando che non era stato progettato nessun carro in grado di accompagnare quelli più leggeri, ad eccezione di quelli studiati, dei mezzi studiati con i tecnici sovietici nella scuola carlista di Kazan in Russia. Allora, questo strano connubio era nato dalla necessità russa di imparare qualcosa sulla tecnica e sull'uso dei corazzati da qualcuno che fosse già esperto in materia. Gli ex alleati della Grande Guerra storcevano il naso davanti al nuovo governo rivoluzionario comunista. L'Inghilterra aveva addirittura fornito armi ai bianchi contro rivoluzionari e non c'era perciò da aspettarsi molto da quella parte. La Germania, invece, oppressa dal trattato di Versailles che ne negava anche la minima autonomia, aveva la tecnica, ma le erano vietati i mezzi per mantenerla e per svilupparla. E così nacque questa scuola semiclandestina che operò tra la fine degli anni venti e i primi anni trenta. A Kazan i tedeschi svilupparono molti progetti, tra i quali, come dicevamo, quelli per un carro pesante, ma che non diedero risultati soddisfacenti. Alla fine i tecnici della Krupp, della Mann e della Rain Metal si misero a cercare una nuova formula che uscisse dai vecchi schemi e che venisse incontro alle richieste dei militari. Tra i progetti elaborati nel 1935 venne prescelto quello della Krupp e la Krupp nel 1936 era già in grado di consegnare un primo lotto di carri armati. Allo scoppio della guerra la Wehrmacht disponeva di un certo numero di mezzi denominati Panzerkampfwagen IV che provò con ottimi risultati durante la campagna di Polonia. Allora, questo carro era oggettivamente un po' il fratello maggiore del Panzer III e costituirà la spina dorsale della Panzerwaff fino agli ultimi giorni di guerra, anche se più tardi entreranno in linea mezzi eccezionali come il Tiger e il Panther che però, come ben sappiamo, avevano i loro gravi difetti rispetto al più rustico e più, tra virgolette, fruibile Panzer IV. Allora, si trattava di un carro dallo scafo realizzato per saldatura con un motore Maybach 120 HL 120 TRM 12 cilindri a V dalla cilindrata di 12 litri e dalla potenza di 300 cavalli. Allora, la corazzatura che era di 30 mm nei primi tipi aumenterà sino a 80 mm più altri 18 di corazze addizionali negli ultimi tipi, diciamo, nelle ultime versioni prodotte. Anche l'armamento avrà una forte evoluzione passando dal primo cannone da 75-24 al 75-48 delle ultime versioni. Questo che vedete è un Panzer IV dell'Africa Corp proprio con il cannone da 75 mm corto. Eccolo qui. Questo proprio dà l'idea dell'eccezionale versatilità del mezzo della... sì, insomma, della bontà del progetto originale Krupp. Dicevo, il carro, questo carro, sarà prodotto in circa 9.000 esemplari dei quali più di 8.000 saranno delle versioni più potenziate F, G, H e J. Il suo interno per la prima volta per la prima volta si pensò al comfort dell'equipaggio all'ergonomia dell'abitacolo, se vogliamo ed era una cosa rivoluzionaria per l'epoca se pensiamo, come dire, ai nostri carri M o se pensiamo a certi carri inglesi vabbè, diciamo che praticamente il suo interno fu uno dei primi carri ad avere l'interno accuratamente rifinito per, come dire, badare all'ergonomia e per badare al comfort dell'equipaggio seggiolini imbottiti, paracolpi su tutti gli spigoli vivi sufficiente spazio per l'equipaggio e le pareti addirittura dipinte con una tinta chiara che contribuivano a ridurre al minimo il senso di oppressione che oggettivamente si prova allo stare al chiuso in una scatola d'acciaio che può trasformarsi nella tua bara quando c'è di fronte gente che non vede l'ora di farti saltare per aria insomma, signori, la guerra è questo diciamoci la verità allora, insomma, un mezzo il Panzer IV un mezzo, a dir poco, eccezionale un mezzo, a dir poco, versatile che fu realmente il nerbo, la spina dorsale ripeto, la struttura portante della Panzerwaffe tedesca durante la seconda guerra mondiale il progetto era, ripeto, estremamente valido perché durante la guerra arabo-israeliana del 67 l'esercito siriano impiegò, e sembra anche con discreti risultati alcuni esemplari di Panzer IV della variante J e, insomma, per ottenere pare discreti risultati più di vent'anni dopo la fine della seconda guerra mondiale voleva dire che il Panzer IV era oggettivamente un mezzo più che valido era oggettivamente un mezzo ben fatto e ben concepito ripeto, sicuramente poteva essere l'equivalente dello Sherman era equivalente allo Sherman poteva essere paragonato alle prime versioni del T-34 ripeto, dalla manutenzione infinitamente più semplice rispetto a quella del Königstiger e del Panther un mezzo che era in grado di fare cose che i suoi più celebrati fratelli insomma, i suoi più celebrati fratelli maggiori perché, insomma, siamo sinceri quando si parla di carri armati tedeschi il discorso va sempre lì ah, i Tigre, ah, i Königstiger, ah, i Panther in realtà la vera spina dorsale della Panzerwaffe tedesca fu il modesto, umile, versatile affidabile e soprattutto ben concepito Panzer IV ok? un mezzo che rimase praticamente in servizio in Germania con la Wehrmacht per oltre dieci anni se ci pensate eh, cari signori che vi devo dire inoltre, ripeto gli Stug e questo mezzo furono la vera arma che permise prima le straordinarie vittorie contro Polonia Francia e nella campagna del deserto e anche Barbarossa e poi fu il protagonista delle terrificanti e ferocissime battaglie difensive del fronte orientale dopo Stalingrado e dopo Kursk insomma il vero protagonista della guerra corazzata insomma dell'arma corazzata tedesca il Panzerkampfwagen IV un mezzo che aveva diciamo prestazioni per l'epoca in cui era stato concepito era un mezzo che aveva oggettivamente prestazioni più che buone perché aveva ripeto il Maybach a 12 cilindri da 12 litri di cilindrata erogava 300 cavalli il mezzo su strada andava a 40 km orari su terreno terreno vario raggiungeva poteva arrivare ai 15-16 km orari con un'autonomia sempre su strada di 200 km e su terreno vario questa autonomia si riduceva a 150 km l'equipaggio era di 5 uomini le prime versioni ripeto erano equipaggiate col 75 mm col 75-24 col cannone da 75-24 e tre mitragliatrici da 7-92 il cannone poi ripeto passò al 75-48 insomma un'arma decisamente più potente un'arma decisamente più prestante ci si può chiedere ma perché i tedeschi non diedero retta a Guderian che diceva prendete il T-34 copiatelo pari pari magari eliminandogli i difetti al cambio e mettendoci sopra la torretta del Panzer IV Guderian probabilmente aveva ragione i progettisti tedeschi e Hitler non gli diedero retta preferendo costruire i Tigre e i Panther e continuando a mantenere in servizio i sempre più stanchi e come dire sempre più superati Panzer IV che ripeto erano ottimi mezzi affidabili ben concepiti ben costruiti ma ahimè ahimè alla fine della guerra nonostante tutti gli aggiornamenti nonostante tutte le migliorie nonostante tutto l'armamento maggiorato e quant'altro così ahimè risentivano dell'anzianità della loro concezione superata dai nuovi mezzi corazzati ripeto alla fine della seconda guerra mondiale gli inglesi avevano praticamente se la guerra fosse durata ancora qualche mese gli inglesi avrebbero messo in servizio il Centurion e gli americani avevano già pronto ed entrò già in servizio il Pershing che rispetto al pur valido Panzer IV erano oggettivamente mezzi di tutt'altro spessore mezzi tecnicamente molto superiori tutto qua quindi cari signori come sempre aspetto i vostri commenti come sempre fatemi sapere che cosa ne pensate come sempre ripeto correggetemi se sbaglio e come sempre arrivederci al mio prossimo video e soprattutto ciao